Vieni Laura, andiamo a vedere Certamente che dobbiamo togliere Guarda, ci sta anche la casetta per gli uccellini Hai visto vicino alla casetta qua? Mamma, non fa freddo, eh? No La mia casetta Ok Casa dolce, casa Hai fatto la foto, ma? No, sto facendo il video Cos'è qua? Oh, Laura, è tutto a posto? Qua penso che funzionava Mamma, mamma Aspetta Me la levo qua e poi prendendoli in mano Levo la faccio Bello, fuori, vero, mamma? Abbiamo scoperto una cosa, guarda Mangolo bar Quella, sì, anche quella Che bello Ma i tuoi divani dieci hanno questa cosa? No No No